Nella redazione sportiva, la notizia di un'oscura tragedia ha gettato un'ombra di tristezza su tutto il mondo dello sport italiano. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Jean Pallissier, un nome noto nel mondo dello skyrunning e dello scialpinismo, è stato trovato senza vita nella sua casa a Saint Vincent, in Valle d'Aosta. La notizia della sua morte improvvisa ha scosso la comunità sportiva. A soli 51 anni, Jean Pallissier, ex atleta azzurro di skyrunning, ha messo fine alla sua vita. È stato un amico a scoprire il suo corpo, e i carabinieri sono immediatamente intervenuti per indagare su questa tragica scomparsa. Jean Pallissier era uno dei pionieri dello skyrunning in Valle d'Aosta e aveva un ruolo significativo nell'organizzazione della Monte Zerbion Skyways, di cui era stato uno dei promotori insieme a Bruno Bruno de Dennis Brunet. Gestiva anche un negozio di articoli sportivi di successo, Jean Pallissier Sport, a Martini, in Svizzera. La sua carriera nello skyrunning era eccezionale, con notevoli traguardi, tra cui il record mondiale di scalata in velocità della Conagua, in Argentina, ottenuto nel 2000. Pissier aveva ottenuto numerosi primi posti in gare di rilievo internazionale. La scomparsa di Jean Pallissier rappresenta una perdita devastante per il mondo dello sport italiano e per la comunità dello skyrunning, e le circostanze di questa tragedia lasciano tutti senza parole.